Oggi si fa qualcosa di diverso Roblox Roblox amici miei, oggi si prova Roblox Mia nipote mi ha assillato la vita con Roblox Perché dovevo comprarle dei Robux Dovevo Quindi mi sono chiamato Nanofurtivo Mi chiamo Nanofurtivo per ovvi motivi Non so cosa fare, dunque Posso scegliere... Avventura consigliato per te Non ho mai giocato Ok, forse ne ho trovato uno Scappa dal dentista, forte Il gioco contiene jumpscare Devo trovare la chiave, trovo la chiave Ah volevo arrampicarmi Dov'è la chiave Ah per interagire con la E Ok Ah la molla però ti si compra Vero? Eh va a quel paese allora Tu hai la molla Ah, ok Morto Chi è? L'è morto qualcun altro? Ok Opla, opla Yeah Ma che cavolo? A parte che c'è la luce che sparfalla Ma dove devo saltare? Perché se vado qui Muoio Ok, e questo è chiaro Giustamente Ammazza pure Ora no Prima si ma... Ok, oh Ce l'ho fatta non so come Qua è chiuso Aprite Bob's office Per favore bussate Ok Mi ho fatto entrare Questo che è filo interdentale Immagino Wow Che rumore Guardalo Come una faina Uno stambecco proprio Oddio potevo farcela eh Però sai com'è Amico ma come fai a farti prendere dalle trappole? Scusami Eh l'abbè L'hitbox è fatta male Però scusami Oh Allora Vedi che ce se la fa Beware Bob's Pets Cioè Voglio andare a vedere Quali animaletti ha Bob Ciao Praticamente è una trappola Fatta di denti Tipo quelle che abbiamo trovato all'inizio Ok Quindi dove devo andare Praticamente Di qua devo andare Giusto? Eh vabbè ma allora Vai sharp turn Eh vabbè Allora scusami Se tu mi dici a destra Non va bene Allora Dai Rifacciamolo Ma però mi sta Prende gusto Allora andiamo di qua Proviamoci Ora arriva l'animaletto Io me ne vado di qua Scappo E l'animaletto mi insegue ovviamente Quindi devo andare di qua Perché lì era chiuso prima Giusto? Troverò l'uscita Eh sì ok Trattini fatti col sangue Immagino Sangue dei bambini Hoppla Eh Suka Ma scusami Ma scusami è finita Cioè quindi ora l'ho aperta e va bene Vabbè Facciamo aperta Va che è meglio Allora Andiamo avanti Andiamo avanti va Ah Ah Ebbè Ebbè amico mio Ebbè Oh io non è che ho giocato tante roba action Però gli RPG mi ti ricordo ancora eh Eccolo qua Le ultime parole famose Ecco Eh guardalo In scioltezza Si insinua Ah Prima sono passato per puro culo quindi Anche adesso eh Non ho idea di cosa è successo Sono inciampato sul pixel probabilmente Io salto E risalto E salto una terza volta E anche la quarta E poi c'è la quinta Che ci porta alla sesta Così alla settima E la settima muori Perché 7 è il numero massimo Non potevo fare l'ottava Ebbè Scusami Ebbè Oh Jesus Ah La fogna Ah tra quelli ancora in gioco sono il primo Allora sono bravo Non Sono bravo Pilmati Haide e Iulia Non è che voleva dire alleluia Oh perché mi sta avvenire il dubbio Sai no Si checkpoint però Ah ok c'è un coso che mi porta sopra E per interagire Non so dove la è Ok No se non guardo non vedo Battotona Per i pochi eletti del canale Questo qua è quell'ascensore Che ti rigira una volta che arrivi Eh a quanto pare si Vuole farmi lo scherzone eh Potevo andare un pochino più avanti Veramente Ma me sono fregato totalmente E lo lasciamo perdere Non è per me andare avanti Opla Oh yeah Oh yeah No è morto Non c'è Sono appesi a nulla Opla Eeeh Grande mago Che poi In nano furtivo Rubò la prima fiamma Quindi Come dovrei fare questo salto Fammi capire Ci vuole l'aria in corsa Ci vuole Ah no ce l'ho fatta Bene Nooo L'ultimo no Non puoi morire all'ultimo Non puoi morire all'ultimo Johnny Ok Vai qua Altra lava Ok è fatta Vai nel minecourt Uso è court Non so leggere Senza guardare Sì La visuale è tremenda Io vorrei trovare un modo Però per cambiare visuale Non so come si fa C'è qualcuno Oh mio dio Sono luminescente Sono entrato in paradiso Bello Sembra lo spazzolone del ceso Più che uno spazzolino da denti Ma ok Ci sta Alla fine magari Devo affrontare il dentista Ah Qua si muore quindi Eh Sì Vabbè Scusami Volevo Girare un attimino L'immagine Ma non Non ero capace Ok Ok No 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 però Però attenzione Perché ci stavo riuscendo Attenzione No niente Questa volta ho toccato lì E si è incazzato Ho detto no Ok Proprio di reni Vabbè Questo ponticello Parla da sé Ah Sono super veloce Ora ok Tala 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 Sonic Fa proprio un buff Proprio niente Provo a atterrare appunto Più basso Spinta di reni Ah Aiuto Aiuto Ah Maledizione Ma dai Ho proprio arrivato A questo punto Mi fai perdere Questo prima Ci ha ucciso Johnny Be good Grande Johnny Be good Questo dovrebbe essere Semplice No Amico Ok Ok Fatta Ok Sì vabbè Buonanotte Andre Ok Questo è fatto Ah che così Eh vabbè però Appena messo il piede Che cos'è La lava non scioglie Non uccide le persone subito La lava Anzi le fa morire Tra troci sofferenze Gli studi scientifici Fatti dagli scienziati Dimostrano che La lava Uccide le persone Lentamente E che quindi Non le fa uccidere subito Non le uccide subito Quindi tu lava Mi devi essere accurata Forse c'è un punto più Molti male Per non creparci subito Ok Ok Oh Bene Find the levers Find the levers Quindi sono più Più leve Vabbè questa è facile E l'altra non sarà qui Beh Ah questa è l'altra leva Ah ok 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 Vi c'è un po' l'immagine Che l'ho allontanata Un po' troppo Ok Come osi scappare Da me Bob è arrabbiato Bob attacca E ho capito E ho capito Ma è quel paese Bob Bob però Se tu mi spawni davanti Eh sì Va bene Ma no Non mi ha preso Non mi ha preso Che poi Questo suono malefico Così alto Perché sviluppatori Fate questi suoni alti Io vi odio Possiamo baggarlo Bob Oh Se porca miseria Però Roblox Mi spawnasse dritto Il personaggio E non che guarda La dimora di Dio Io sarò molto più contento Bob sali un po' Qua sopra Io sono Io sono proprio Transolo Lui proprio no Ma perché è salito Ok ci sto riuscendo Ora sto andando Un pochino meglio Dai 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 La strada è vicina La strada è vicina Sono vivo Sì Ce l'ho fatta Grazie per aver giocato Prego Ho vinto Ho vinto Felice anno nuovo No Grandpa Non c'hai le gambe Guarda questo Guarda Che miseria Bene Magari Vediamo come va Questo primo episodio Poi magari deciderò Se farne un altro Insomma Oggi volevo provare Qualcosa di diverso Volevo provare Roblox E Capisco perché piace Capisco perché piace Però Non lo so È un po' Particolare Un po' frustrante A tratti Non è frustrante I livelli di Sans In Undertale Ma ci siamo capiti Che tra l'altro Appena sconfitto Se non avete visto i video È uscito proprio L'altro ieri Ad ogni modo Vi ringrazio per aver seguito Questo video In descrizione Trovate tutti quanti i link utili Se ancora non siete iscritti Magari iscrivetevi E noi ci vediamo ovviamente Domani con un nuovo video Bye bye Grazie a tutti Aplausa